Chi è il suo figlio? Saradino Giuseppe, il ragazzo che ha avuto i domiciliari è che l'indomani mio figlio ha avuto un'everdosa al carcere. Il pubblico ministero avrebbe voluto archiviare il caso di mio figlio, a me però mi sto impugnando a non archiviare perché voglio la verità, perché ho dato un figlio sano e mio figlio non aveva neanche problemi di psicopatico, quindi ritengo il caso che mio figlio, se c'è un governo e c'è una giustizia, che viene a galla la pura santa verità.